cari fratelli e sorelle della missione rua del mondo intero e questo giorno ventinovesimo di digiuno chiediamo a gesù di insegnarci il distacco delle cose materiali invochiamo lo spirito santo viene ospito creatore visita le nostre menti riempie della tua grazia i cuori che hai creato o dolce consolatore dono del padre altissimo acqua viva fuoco amore santo crisma dell'anima dito della mano di dio promesso da salvatore irradi i tuoi sette donne suscita in noi la parola si luce all'intelletto fiamma ardente nel cuore sana le nostre ferite con balsamo del tuo amore difendici dal nemico recandono la pace la tua guida invincibile ci preservi dal male luce ed eterna sapienza svelaci il grande mistero di dio padre e figlio uniti in un solo amore amine leggiamo dal vangelo secondo marco capitolo decimo versetto 27 finto fino al 30 mentre usciva per mettersi in viaggio un Natale li corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui li domandò maestro buono che cosa devo fare per avere la vita eterna gesù gli disse perché mi chiami buono nessuno è buono se non dio solo tu conosci i comandamenti non uccidere non commettere adulterio non rubare non dire falsa testimonianza non frodare onora il padre e la madre e lì allora gli disse maestro tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza allora gesù fissato lo amò e gli disse una cosa sola ti manca va vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo poi vieni e seguimi ma egli rattristantrositosi per quelle parole se ne andò afflitto poiché aveva molti beni gesù volgendo lo sguardo attorno disse ai suoi discepoli quanto difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel reno di dio i discepoli rimassero stupefatti a queste sue parole ma gesù riprese figlioli com'è difficile entrare nel reno di dio è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel reno di dio essi ancora più sbigotiti dicevano tra loro e chi mai si può salvare ma gesù guardandoli disse impossibile presso gli uomini ma non presso dio perché tutto è possibile presso dio pietro allora gli disse ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito gesù rispose in verità vi dico non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli e sorelle madri padri o figli o campi a causa mia e a causa del vangelo che non riceva già al presente cento volte tanto in casi e fratelli e sorelle madri e figli e cambi insieme a persecuzioni e nel futuro la vita eterna parola del signore lode a te o cristo gesù cosa devo fare per evitare la vita eterna è una domanda che ciascuno di noi la possiamo farcela a noi stessi a tutti coloro che sono intorno a noi gesù oggi ci insegna che le carenze della nostra anima non vengono mai sanati riempiendo il vuoto con le cose materiali se non ci liberiamo del lato materiale non saremo liberi mai per seguire seguire dio per sentire la sua invitazione e compiere la missione affidata a ciascuno di noi su questa terra gesù ci dice seguimi ciascuno di noi deve dare una risposta concreta un sì corrispondente alla nostra vocazione la santità non dipende dal fatto che tu sia sposo sposato moglie marito sacerdote o celibe ma dalla risposta di fronte a dio il sì davanti alla sua volontà chiediti il mio cuore è ancorato a dio quali ricchezze di questa terra il giovane che abbiamo sentito nel vangelo sembra avere dio nel centro della sua vita ma gesù guardando nella sua anima con amore e gli ha dato una risposta gli ha detto una cosa solo ti manca va vendi quello che hai e dallo ai poveri avrai un tesoro nel cielo poi vieni e seguimi ciascuno di noi dobbiamo avere un tesoro nel cielo quello è la carità che risposta che avresti dato tu a gesù seguimento o te ne vai triste te ne andrai triste perché non vuoi lasciare la zona di conforto dei beni o accetterai l'invito di gesù entusiasmante di dare la vita per lui il digiuno e la preghiera ci aiutano ad abbandonare il comportamento dell'uomo vecchio materialistico e superficiale e lasciare che gesù costruisca ogni giorno l'uomo nuovo prendendo decisioni della nostra vita che ci conducono alla vita eterna amare dio e bisognose con la la parola e con l'azione questo l'invito di oggi ricordo questa persona da stati uniti da miami che diceva Gesù mi ha aiutato a convertirmi a un approfondimento più grandi mi sono reso conto di quanto era egoista e quanto rifiutato a Gesù ho potuto con aiuto del Signore di fare anche un un aiuto ai poveri prima non facevo tanto ho chiesto al Signore la grazia e così sono arrivato a poter aiutare con un pozzo di acqua che dà da bere a mille persone con la missione ho sentito forza energia durante il digiuno ho sentito che Dio mi dà tutto quello che ho bisogno e anche riempie tutto quello che io anche posso fare del male ma la prima settimana è stata per me una benedizione ho sentito che mantenendo correndo cinque chilometri al giorno non sentivo stanchezza sino più forza ho sentito la seconda settimana che devo fare una intercessione a San Giuseppe ho bisogno di consacrarmi a lui la mia famiglia come padre anche la terza settimana ho potuto sentire che Gesù è quello che mi invita a pregare per i preti ho iniziato a pregare per i sacerdoti non giudicare più di offrire il sacrificio di questo digiuno anche per loro anche la quarta settimana Gesù mi ha liberato dello spirito di ira perdevo molto le staffe con i miei figli e adesso mi sono reso conto che Gesù mi ha dato la pazienza così Gesù mi ha liberato di quello spirito di ira che faceva che prenda decisioni sbagliate intorno ai miei figli la settimana scorsa Gesù mi ha dato l'opportunità di dare testimonianza sono stato vicino in un viaggio di negozi con una persona che amava la Vergine Maria mi ha chiesto perché non mangi ha detto mangio pane e acqua e un digiuno per la gloria di Dio e questa persona mi ha guardato e mi ha detto si vede nel tuo volto che sei sereno prega perché io possa ricevere anche io questo dono ho pregato come ho ricevuto i frutti di questo digiuno pace pazienza e temperanza anche ho chiesto per lui lo stesso e spero che Dio le abbia dato la testimonianza della moglie di questa persona che vive a Miami dice la vita spirituale nel mio matrimonio è cresciuta tanto abbiamo iniziato il digiuno insieme e siamo stati molto molto benedetti ho potuto sentire la gioia di Gesù pregando il rosario insieme al mio marito di pregare e avere pazienza con i miei figli ho sentito l'amore di Gesù in me dal punto di vista spirituale durante i giorni di digiuno ho sentito Gesù più vicino io ho avuto bellissime esperienze di fede leggendo le ore delle passioni di Gesù a Luisa Piccaretta mi sono sentita come quella figlia scelta dal Signore per essere benedetta e benedire chi le sta intorno con gioia, pazienza e speranza sono benedetta come moglie, madre e anche come figlia di Dio e voglio dare grazie a Dio con questo digiuno finiamo questa meditazione cari fratelli e sorelle del giorno ventinovesimo con questa frase di San Agustino oh Signore durante il digiuno tieni in destra la mia mente e raviva in me il sano ricordo di quanto bene mi ha fatto quando digiunavi e pregavi per me fai che la mia anima sia umile nel tempo di digiuno vendendo come te maestro di umiltà fosti obbediente fino alla morte di croce Amen queste parole di San Agustino ci guidi anche verso questo tempo di digiuno verso la profondità di Dio verso la carità verso l'amore di scegliere non le cose materiali sino quelle spirituali quelle che ci portano al cielo e ci illumina ricordo che i giovani della nostra missione un giorno parlando con loro ho chiesto potete rinunciare le scarpe o un vestito che vi piace tanto perché questo è un distacco un distacco che vi avvicina più a Gesù e che vi allontana più dal materialismo l'hanno fatto hanno dato testimonianza e hanno sentito che nel loro cuore è cresciuto Gesù e la presenza di Dio si sono ancorati di più ai valori del cielo che questi della terra facciamo questi piccoli passi rinunciamo alle cose che non abbiamo più bisogno tanto con il cibo come anche con le cose materiali e vedrai quanta felicità avrai nel tuo anima nel tuo cuore chiediamo in questo giorno di digiuno Dio Padre Unipotente nel giorno ventinovesimo di digiuno ti preghiamo di inviarci lo Spirito Santo con il dono del distacco e delle cose mondani affinché il nostro cuore rimanga ancorato alle cose celesti e non a quelle terrene per Cristo nostro Signore Amen il Signore sia con voi la benedizione di Dio Padre il Figlio e lo Spirito Santo discenda su di voi con voi rimanga sempre e la Vergine Maria vi accompagna nella sua divina volontà Amen Amen Amin Amin Sua, 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 sua.